Il mondo diventa sempre più sostenibile e i materiali più appropriati ricoprono un ruolo di particolare importanza. Flyder ha imputa molta importanza alla protezione dell'ambiente e del clima e ha fatto certificare parte del suo portfolio secondo il Cradle to Cradle Certified Product Program. Questo sistema di certificazione, particolarmente rigido e indipendente, valuta la sostenibilità con riferimento alla capacità di ciclo e agli effetti ecologici del prodotto. Attraverso tutta la vita del prodotto stesso. Oggi partiamo dal presupposto che un'economia circolare coerente sia la strategia ottimale per la gestione delle risorse naturali. Flyder attribuisce quindi una strategica importanza al fatto che le materie prime dei nostri materiali rimangano conservate nel modo più completo possibile in un cosiddetto ciclo tecnico, dalla produzione all'utilizzo fino al recupero. Idealmente dopo l'utilizzo si crea materia prima per nuovi prodotti tramite il riciclo, portando il ciclo a ripetersi. Quando un materiale del ciclo tecnico non soddisfa più i requisiti di qualità per un nuovo uso, il tutto viene immesso in un ciclo biologico. Ciò significa che si creerà la base per la creazione di nuove materie prime biologiche. Per i materiali a base di legno Flydera non viene tagliato alcun albero. Le nostre materie prime si ottengono esclusivamente da riciclaggio, da scarti di segherie e da legno proveniente da aree diladate. I materiali a base di legno altamente sostenibili di Flydera sono certificati secondo i principi del Cradle to Cradle Certified Products Program. Un'organizzazione indipendente valuta la salute dei materiali, la capacità di ciclo, l'inchiego di energie rinnovabili, l'uso responsabile dell'acqua e la giustizia sociale, secondo standard particolarmente rigidi. Attualmente i nostri Deco Board e Prime Board sono stati premiati con il Cradle to Cradle Certified Bronze, mentre il Living Board con il Cradle to Cradle Certified Silver, obiettivi fortemente voluti che danno ai nostri clienti la possibilità di realizzare idee e progetti altamente sicuri per il futuro, risparmiando risorse. Per soluzioni sostenibili, mobili interior design e costruzioni in legno.